Vai, sono quasi pronto Ho passato 4 ore, ho iniziato a mezzogiorno, ora sono quasi le 4 Sto rimontando la moto, cambio dell'olio fatto, cambio del filtro dell'olio Controllo del filtro dell'aria, cambio candele, controllo delle pastiglie di freno Posteriori e quindi ho fatto una pulizia nella pinza del freno E ho lasciato quelle perché c'era ancora un po' di ferodo Pulizia a fondo della catena, oleazione della catena Regolazione della carburazione che era un po' magra Basta, quindi sono pronto, ora faccio un saluto quando ho finito